Buongiorno a tutti, io sono Pierpaolo Luciano, vice direttore del mondo economico e vi presento i protagonisti dell'incontro di oggi. Sono alla mia destra Alessandro Giraudo, professore alle gran secol di Parigi, economista e autore di libri e accanto il professor Federico Boffo, docente di economia industriale all'Università di Bolzano e al collegio Carlo Alberto. In un secondo tempo arriverà per le conclusioni Giuseppe Russo, economista anche lui e direttore del centro Einaudi. Ma partiamo dal libro al centro dell'incontro, quando il ferro costava più del loro, che è edito dalla torinese ADD. Potete trovare nelle librerie e su tutte le piattaforme online. E' l'ultimo lavoro di Alessandro Giraudo che di libro in libro si è guadagnato e diventato il signore delle materie prime grazie anche ad alcune apparizioni di successo in tv e in radio. Giraudo ha creato nel nel 2019 un filone di successo con storie ordinarie, storie straordinarie delle materie prime, a cui è poi seguito altre storie ordinarie delle materie prime. E' l'ultimo libro, quello che presentiamo oggi, appunto quando il ferro costava più dell'oro, ha avuto un esploit di vendite anche in Cina. Questi successi editoriali confermano l'interesse che c'è nel conoscere l'origine delle cose che ogni giorno tocchiamo, maneggiamo, spesso buttiamo. D'altronde direi che le materie prime sono innanzitutto la storia della civiltà umana, dei suoi successi e delle sue sconfitte e poi soprattutto sono una chiave per stabilire anche gli equilibri dell'economia mondiale attuale. Comincerei subito col professor Giraudo che tra l'altro ci ha portato una sorpresa, ma lascerò a lui spiegarcela perché è legata al titolo del libro. Cominciando proprio dal discorso che dà lo spunto al libro, cioè il ferro e quando è che è finita l'era dello stagno ed è cominciata quella del ferro? No dello stagno ma del bronzo. Perfetto, grazie. No, del bronzo. Quindi il bronzo termina verso 1200 prima di Cristo e inizia l'epoca del ferro. La bottiglia. Perfetto, sapendo che non è dell'acqua questo ma è qualcosa che in Polonia conoscono bene. Allora, primo vorrei farvi vedere una cosa, non so quanti di voi avevano già visto, mi sembra di fare un po' l'imbonitore che fa vedere le cose strane, non so se avete già visto una meteorite. Dunque, primo, è molto pesante, quindi sentila. E secondo, è una meteorite, questa è caduta nel circa 5 mila anni fa a mille chilometri al nord di Buenos Aires ed è stata scoperta dal, naturalmente gli uomini che erano andati a vedere queste regioni nel mille... certo. E poi scusate, questo invece arriva dalla Russia, non è ancora sotto imbargo per l'istante ma potrebbe diventarlo, nel 1947 e si chiama Sicote Alin, sentite l'accento. Allora, questo è una seconda meteorite. Quanto ferro c'è dentro? in genere c'è fra il 90 e il 92%. Paolo, se vuoi, magari. E sono cose che sono un po' strane, ma perché vi ho portato a questo? Per una ragione semplice, perché vedete, il ferro, perché non lo conoscevamo bene? Cioè, lo conoscevamo bene, però non sapevamo lavorarlo perché è necessario avere una temperatura di 1536 gradi per farlo fondere ed era molto molto difficile, onestamente, ottenere questa temperatura. E allora, molto semplicemente, gli uomini erano condannati a usare il bronzo, bronzo che è una lega fra il rame e lo stagno, però c'erano degli uomini ricchi, come al solito, che volevano assolutamente avere il ferro, quindi chi erano questi signori? Ma come al solito principi, re, religiosi, uomini molto importanti. E quindi, dove è che si trova il ferro? Naturalmente, nelle meteoriti. Quindi la gente andava a raccoltere queste meteoriti, che costavano otto volte più care del loro. Ecco quindi il titolo del mio libro. Allora, cosa successe verso il 1200 prima di Cristo? Un gravissimo incidente climatico, che fu un incidente legato a veramente un cambiamento climatico molto molto serio e che alimentò la fame, in realtà, come al solito. E quindi delle popolazioni che erano, che abitavano nella, diciamo, nella Siberia, fino all'Ucraina, si spostarono dalle steppe verso una regione che forse poteva offrire loro da, da, realmente da mangiare, semplicemente da mangiare, e quindi invasero il Mediterraneo Levantino, quindi il Mediterraneo Orientale. E ci furono dei grossi, durissimi combattimenti, ci sono ancora delle tracce molto evidenti, delle mura delle città che erano state conquistate da questi, da questi Ixos, si chiamano, e si vedono molto bene le tracce perché sono in realtà delle, delle, delle punte di freccia che si sono state inficcate nei muri, oltre al fatto che in alcuni muri si vedono bene le tracce di incendi molto 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 seri. Allora, gli uomini furono scioccati, perché? Perché in realtà il flusso dello stagno cadde in modo improvviso. Lo stagno arrivava dalla Cornovaglia, parentese aperta, sapete che gli uomini sono andati in Inghilterra non perché c'era il tè, ma perché c'era lo stagno della Cornovaglia. E arrivava lo stagno anche dall'Uristan e dalle regioni della Turquia del Sud. E quindi se manca un ingrediente nella composizione del bronzo, non è più possibile averlo, quindi dovete ringegnarsi per trovare una soluzione per salire, far salire la temperatura. Infatti voi sapete, primo, che noi diciamo in italiano toccaferro, perché il ferro costava veramente molto caro, quindi è un qualche cosa di molto importante. La seconda cosa è che il ferro si batte, Vulcano batte il ferro, non lo fa, non lo fonde. E questo è un segno molto molto chiaro del fatto che c'era tutta una tecnologia nuova che è arrivata. E come voi sapete, per esempio, nelle civilizzazioni pre-colombiane non riuscivano a produrre questa temperatura e quindi non avevano il ferro. Il ferro arrivò, arrivò quindi con Cristoforo Colombo e così via, tranne quello che avete visto, perché questo grande campo, che si chiama Campo del Sielo, era una regione dove cadde una meteorite e quindi molti uomini andavano in questa regione per preoccuparsi del ferro. Bene, vado un po' avanti su queste vicende, di questi grandi grandi cambiamenti, il che significa in realtà disporre di una materia prima estremamente resistente e i vari eserciti volevano assolutamente disporre del ferro perché il ferro riusciva a spaccare le spade di bronzo. Per esempio gli egiziani avevano delle spade che erano molto efficienti, erano come delle scimitarre, però erano in bronzo e una delle ragioni per cui a partire da circa il Cinquecento il mondo egiziano iniziò a perdere molti pezzi innanzitutto come regioni e secondo a indebolirsi fu proprio perché non disponevano di armi così potenti come gli altri. Mi fermo qua, altrimenti monopolizzo la serata. Sì, no ma vorrei ancora chiedere una cosa però, tra l'altro com'è che sono riusciti a raggiungere la temperatura di 1.560? Esatto, buona domanda. Allora, primo, conoscevamo già la tecnica del carbone di legno, però il carbone di legno dà delle temperature di 1.200-1.250 gradi, non di più, mentre invece per esempio il carbone che non esisteva all'epoca, non lo conoscevamo, tranne ancora una volta in Inghilterra dove i romani, ma qua siamo mille anni più tardi, naturalmente, i romani scaldavano primo il loro cibo, i vari sistemi per lottare contro il freddo inglese e poi nelle varie regioni che, pensate a Bath, dove c'erano queste grandi capacità dell'igiene romana che significava disporre di queste grandi palestre dove le persone potevano andare a lavarsi eccetera eccetera. Però il carbone era prima raccolto su una base essenzialmente molto molto superficiale, secondo il carbone come sapete pesa molto, si sbriciola e costava molto molto caro. Voi sapete meglio di me che il testaccio a Roma è proprio il frutto di questa considerazione, cioè i romani dicevano è inutile portare, importiamo dell'olio, del vino e altri prodotti liquidi e poi dopo non vogliamo riesportare le nostre olle nei nostri recipienti perché sono vuoti e quindi li spacchiamo. Ecco la origine del testaccio, 26 metri di collina. Allora il ferro era per esempio utilizzato dai romani e con quale tipo di temperatura? Ancora una volta erano riusciti a inventare i mantici, i mantici, attenzioni, primo all'inizio soffiati dalle persone realmente quindi mossi a mano e poi dopo con l'introduzione di sistemi chiaramente legati all'acqua, utilizzare l'acqua per spostare e fare questi movimenti. Vi ricordo per esempio che ancora una volta le civilizzazioni pre-colombiane utilizzavano gli uomini che soffiavano sul bracere e pensate che soffiavano a 4.000 metri. Io ci sono stati, vi assicuro che non avete tutti i polmoni o avete dei polmoni grandi così, i vostri mantici non sono sufficienti onestamente per soffiare. Quindi devono prendere veramente... Così anche l'altitudine. Esatto, devono prendere veramente degli uomini molto molto efficaci e efficienti, molto molto giovani per ottenere questo tipo di lavoro. Prima di coinvolgere anche il dottor Boffo, volevo fargli una domanda, lei in una ipotetica classifica che le chiedono sempre, ma lei quale considera le materie prime più importanti mette l'oro e l'argento, quindi prima del ferro? Perché dice l'oro e l'argento hanno finanziato le folie degli uomini. Esatto, allora chiaramente molte materie prime, pensate se non abbiamo il pane, quindi non abbiamo i cereali, possiamo tutti morire. Però avendo dell'oro o dell'argento è possibile comprarlo il pane, quindi è sempre possibile ottenere qualche cosa disponendo di ferro e argento. Vi ricordo una piccola cosa a cui non pensiamo mai, che le monete, la moneta in realtà è un giano bifronte, nel senso che da una parte abbiamo un'immagine, dall'altra parte un'altra immagine. Però in realtà la moneta ha due immagini, la prima è quella di essere un strumento molto molto funzionale negli scambi che ha favorito chiaramente il trasporto della moneta, il trasporto dei valori, lo stoccaggio del valore e gli scambi. La seconda cosa, ancora una volta, è che però la moneta ha alimentato delle grandi e terribili folie degli uomini che vanno dalle guerre, naturalmente, ne vediamo una attualmente, Dante scusate, ha alimentato delle folie vere, ha alimentato dei tradimenti. Sapete che Dante scrive, parla del fiore, per indicare il fiorino, che compra tutto, tutto corrompe, ha scritto Dante. E poi pensate ancora un'altra cosa, cosa che io racconto ai miei studenti e allora su questo vado molto sui piedi, con molta attenzione, pensate che la moneta compra anche i servizi, ma di tutto tipo, anche per esempio la simpatia delle donne e voi sapete che Shakespeare aveva detto, aveva scritto, chi si fa precedere dalla moneta sarà sempre bello. Anche i prodotti diventano belli, basta che ci sia la moneta che li precede. Allora, perché oro e argento? Perché sono ovviamente due materie prime molto strane, pensate che nell'oro l'abbiamo estratto da circa 7.000 anni, nell'oro attualmente è oro, quindi questo, magari questo può essere stato estratto forse in California, forse in Russia, forse in Val Rosso, da queste parti, ed è una materia prima che tiene per molto tempo, quindi non è mai sconfitto dal tempo. Secondo, tutti lo accettano, questa è una cosa strana. Mio padre, vecchio alpino, in Russia, a 60 km da Stalingrado, riuscì a salvarsi perché aveva una cosa di questo tipo, e diede una cosa di questo tipo a una vecchia contadina contro dello chleba, quindi il pane. Quindi mio padre fu salvato proprio da questa cosa. E quindi l'oro è conosciuto da tutti, tutti lo stimano. Avete visto per esempio che nell'anno scorso le banche centrali hanno comprato esattamente 236 tonnellate netto, e quindi fra quelle che hanno venduto e quelle che hanno comprato, d'oro. Quindi le banche centrali, anche l'oro, continuano a fare la corte a questo strano prodotto che Lutero aveva trattato di escremento del diavolo, che altri continuano a considerare una reliquia barbara, però attualmente, e c'è una grossa corsa a loro attualmente, è una cosa molto interessante. E siamo nel 2023, quindi non siamo nell'anno 100. La seconda cosa dell'argento, per me è molto interessante, perché è la prima materia prima, che fu veramente il primo caso di globalizzazione, parola molto difficile da dire, perché in realtà ci fu, primo, un grande bacino in Germania, sicuramente conoscete Joachim Stahl, che significa l'origine del dollaro in realtà, che produceva del metallo bianco. Poi ci furono tutte le miniere che furono scoperte con l'arrivo degli spagnoli nell'America del centro e del sud, quindi Potosi, i vari centri molto importanti messicani. E poi ci fu una miniera che fu scoperta, adesso mi sembra strano che me lo ricordi, però per me è molto importante, 1523, che si chiama Iwami Ginzan, che fu scoperta in Giappone e che fu una di queste grandi miniere che favorì la grande lotta civile che durò circa un secolo fra gli Shogun, l'imperatore, eccetera, eccetera, e chi riuscì a mettere le mani sopra questa miniera riuscì a bloccare il potere per 200 anni. Vi ricordo ancora, per esempio, che nel 1644 ci fu la crisi dei Ming, quindi una civilizzazione che per 300 anni ha tenuto molto bene, e andarono a gamba all'aria perché c'era il famoso Sakoku, che è questo principio dei giapponesi che si isolarono verso il 1610, quindi smisero di negoziare e di esportare dell'argento metallo verso la Cina, e la mancanza di argento metallo, che era la moneta che permetteva gli scambi in Cina, creò una delle cause per cui la dinastia dei Ming saltò in aria. Ci furono anche il clima, chiaramente, la corruzione, le famose lotte degli eunuchi con le concubine, eccetera, eccetera, quindi ci sono tante mila ragioni. Però vi assicuro che l'argento era veramente un grande mezzo di scambi, e a quell'epoca pensate anche che l'India era il grande, grande paese produttore di vari prodotti industriali, per le proto-industriali dell'epoca, soprattutto il cotone, che era esportato in tutto il mondo, e l'Europa lo comprava contro che cosa? Contro dell'argento, perché l'India e la Cina erano due grandi spugne che assorbivano tutto l'argento mondiale. Pensate che un terzo dell'argento mondiale sono due paesi che non hanno argento. La Cina, per esempio, ha dell'oro nello Yunnan, Yunnan è a 500 chilometri all'ovest di Hong Kong, però la Cina, per esempio, fu un grande importatore di argento, e loro cosa facevano? Esportavano i loro prodotti, quindi la seta come al solito, la porcellana e così via. Quindi queste due materie prime per me sono essenziali, sono forse il motore di tutto questo enorme mercato delle materie prime che si è sviluppato in modo esponenziale durante gli ultimi, direi, cento anni. Vorrei provare a passare i giorni nostri e a chiedere al professor Federico Boffa, lei oggi condivide ancora questa classifica delle materie prime o al posto dell'oro e l'argento mette qualcos'altro. Ah, domanda difficile. No, domanda facile, risposta difficile. Domanda facile, risposta difficile. Mi sentite adesso? No. Adesso? Buono. Benissimo. Ma le materie prime intanto ci dimostrano, io credo, che la storia conta e conta anche la geografia. Noi spesso diciamo che bisogna cominciare a studiare economia prima, forse ha ragione, come economisti lo chiamo che già magari dal liceo si comincia a studiare un po' di economia. In realtà, sono anche d'accordo con questo, però, l'economia stessa dipende tantissimo dalla storia e dalla geografia, quindi le materie che si studiano alle medie al liceo sono delle materie importantissime. E anche ho trovato questo libro, oltre che divertente, istruttivo, anche emozionante per certi versi, perché mi ha ricordato anche quando, durante i miei studi di dottorato, avevo fatto il corso di storia economica con il professor Mokir, noto storico economico di origine olandese, naturalizzato statunitense. E all'inizio del corso lui ci diceva, in un certo senso per rappresentarci l'importanza della storia economica, ci diceva, guardate ragazzi, che not all that counts is countable, quindi non tutto ciò che conta è misurabile, and not all that is countable counts, non tutto ciò che si misura effettivamente conta. Le materie prime, in un certo senso, sono importanti, perché hanno determinato lo sviluppo di duemila anni di storia, sono probabilmente importantissime adesso, però forse in modo ancora più importante hanno determinato lo sviluppo delle istituzioni, perché hanno fatto in modo che le materie prime, insieme alla geografia, determinassero i paesi a più alta intensità di progresso, a più alta intensità di sviluppo tecnologico, che a loro volta il progresso e lo sviluppo tecnologico hanno determinato in molti casi la bontà delle istituzioni e spesso le materie prime di oggi forse sono, in un certo senso, oltre a quelle tradizionali che certamente contano, le istituzioni e l'istruzione, verrebbe da dire, perché l'istruzione, quindi il capitale umano è certamente una materia prima che insieme a quelle tradizionali conta tantissimo. Perciò io metterei forse questa, non so se Alessandro, a cui mi permetto di dar del tu e d'accordo su questo, ma metterei forse adesso l'istruzione e l'istituzione diciamo su un pari grado rispetto alle materie prime tradizionali, che peraltro continuano a contare tantissimo e noi io credo come economisti spesso sottovalutiamo l'importanza della geografia nel determinare le traiettorie di sviluppo. Allora io mi permetto di aggiungere una cosa, l'acqua, una materia prima di cui ce ne fariamo totalmente, però vi assicuro che è qualcosa che diventerà veramente molto molto importante. Pensate che negli ultimi 5.000 anni ci sono stati 500 conflitti legati all'acqua, quindi è una cosa veramente molto molto importante. Esatto, come al solito chi aveva l'acqua riusciva a fare, primo avere, secondo cucinare, terzo lavarsi, quarto alimentare gli animali, utilizzare l'acqua per il settore industriale e poi per navigare per esempio, quindi una cosa molto molto importante. Vi racconto una cosa che mi piacerebbe raccontarvi più per la curiosità. Pensate che siamo nel 1942, 1942 scusate, e ci sono i servizi segreti americani che scoprono che forse i giapponesi, quindi Yamamoto, vuole attaccare le Midway. Qual è la risposta? Molto semplice, mandano un messaggio non cifrato, quindi in chiaro, dalle Midway a Washington per dire, noi abbiamo un problema gravissimo per l'acqua perché nelle nostre regioni, quindi nelle nostre isole, abbiamo un incidente molto serio che è quello del dissalatore e quindi avremo dell'acqua al massimo per le prossime due settimane. Yamamoto ci cascò in modo molto molto semplice, sapendo che il messaggio non era stato cifrato, era un messaggio molto importante, teoricamente falso messaggio naturalmente, e quindi attaccò le Midway. Però fu accolto naturalmente con una barriera di fuoco perché tutta la sorpresa che loro, che i giapponesi pensavano di aver creato, non c'era. Secondo, tutti i fucili e tutti i cannoni e tutti gli aerei erano totalmente armati, quindi quando la flotta arrivò fu rapidamente sconfitta. Vi do un caso che è molto strano dell'acqua, ma pensate che l'acqua è una delle regioni per cui intorno a Israele ci sono grandi battaglie, grandi conflitti. Pensate che per esempio dei paesi come l'Egitto, sotto l'Egitto, il Sudan, sotto Sudan, quindi l'Etiopia, geografia ancora una volta, hanno un rubinetto, hanno tre rubinetti che controllano l'acqua del Nilo. Basta che uno chiuda un po' di più il rubinetto, il vicino che segue riceve molta meno acqua. E lì è un'altra ragione di conflitto. Pensate nelle Ande, le Ande cosa sono? Come il Tiber sono essenzialmente i grandi bacini di acqua solida. Ebbene, ci sono dei conflitti incredibili, nel passato furono anche a colpi di cannone, ma che sono dei conflitti che si svolgono proprio per controllare la disponibilità dell'acqua, che è essenziale. Pensate che se chiudiamo un po' le Ande, tutta la Pampa non riceve più acqua, quindi c'è un problema essenziale. Pensate che se chiudiamo un po' i rubinetti nell'Himalaya, intorno all'Himalaya, al Tibet e così via, c'è l'India, il Pakistan, la regione della Cina occidentale che sono a secco. Quindi sono delle regioni estremamente importanti e lì ci sono dei conflitti. Io sono convinto che con i problemi climatici che abbiamo avremo un problema dell'acqua come forse dell'aria. L'aria per l'istante non costa nulla, bene. Si costa qualche cosa perché se volete del neon, come sapete, bisogna pagarlo molto caro, ma l'aria ci sembra gratuita. In realtà non è vero, perché per produrre dell'aria gratuita, per esempio i cinesi, ogni volta che c'è una grande regione a Pechino, bloccano 9.000 imprese intorno a Pechino e il cielo di Pechino è blu. Però se andate a Pechino quando non hanno chiuso le imprese, salite sulla collina del Carbone, da cui si vede tutta la grande città interdetta e vedete se va tutto bene metà città interdetta. Altrimenti si chiudono 9.000 imprese, tutto è blu. Cielo Kodak, magnifico. Tutto lì. D'altronde se posso su questo aggiungere un modo a cui spesso pensiamo di ricorrere per risolvere questi problemi, anche di esternalità ambientali, è quello di tassare ed è interessante vedere come nel testo descrivi tutte le tasse che erano state imposte sulle materie prime. Sono 3.000 anni che la tassa, che noi chiamiamo piguviana, come se l'avesse inventata, forse la teorizzata pigu. Però esiste da 3.000 anni tutta la questione del legname, dello sfruttamento del legname, anche del problema dell'esternalità di chi andava a conquistare, poi tagliava legname in modo probabilmente eccessivo rispetto al fabbisogno del momento, immaginando che poi magari in futuro non sarebbero stati loro a esserne proprietari, ma sarebbe stato qualcun altro. Un esempio di tassazione riferita alle materie prime che ho trovato estremamente interessante, anche perché gli incentivi contano e gli incentivi sono sempre contati. Tornando alle cose che count. Allora vorrei aggiungere questo per farvi un po' ridere. Pensate che ci fu una tassa in Inghilterra che colpiva le donne che si sposavano, scusate le vedove, che si sposavano 12, entro i 12 mesi dopo la morte del marito. E' una tassa quindi che penalizzava un certo tipo di attitudine. Mentre invece, e voi sicuramente avete avuto qualche zio o nonno che si è sposato prima di 30 anni all'epoca di Mussolini, mio padre per esempio, perché i celibi erano colpiti fiscalmente ad una tassa, che era il tassa sul celibato. Quindi abbiamo due casi molto strani. Da una parte il celibe è punito, dall'altra parte chi si sposa è punito, anzi non punito, è colpito dalla fiscalità. E la fiscalità, come sapete, nel libro ne parlo, è divertente perché c'è stata della fiscalità sulle parrucche, sulle barbe, su centomila cose, sapendo che la più grande fu quella proprio che colpì il sale, perché il sale era il famoso frigorifero dell'umanità per 7.000, 8.000 anni. E quindi questo tipo di bene, il sale, era essenziale per tutti. Adesso cosa abbiamo? Non abbiamo più la tassa sul sale, abbiamo la tassa sul, come si chiama? Si chiama il petrolio, si chiama il gas e così via. Pensate che leggevo proprio stamattina alcuni calcoli sono stati fatti. In Francia il 75% del prezzo della benzina è fiscalità. 75%. Ucribbio, mi dico, sono veramente tanti. Ed è esattamente quello che colpiva la gabella del sale. E voi sapete meglio di me che nella regione dell'Umbria c'è il pane sciapo, perché nel 1540 molto semplicemente il Papa che controllava le regioni volle incrementare la tassa sul sale. I cittadini si ribellarono, il Papa inviò suo figlio, attenzione siamo all'epoca del Rinascimento, quindi c'è una certa libertà psicologica di azione, quindi inviò suo figlio, grande condottier, che schiacciò la rivolta. La risposta degli Umbri fu smettiamo di mettere del sale nel pane. Purtroppo per mantenere, conservare a lungo carne, pesce, salami, eccetera, eccetera, abbiamo messo del sale nel pane, possiamo eventualmente farne a meno. Se posso, mi veniva in mente leggendo il tuo pezzo sulla tassa, sui mattoni che era stata imposta, forse ci potrai raccontare, ma c'era un'analogia che ho trovato interessante, perché girava su Twitter in questi giorni questo regolamento francese che impone di avere un architetto per tutte le case sopra i 175 metri quadri. 175? Perché 175? 175 e c'è questa discontinuità nella grandezza delle case a proposito di incentivi al di sotto dei 175 metri quadri, perché c'è molta gente che vuole farsela senza architetto e mi veniva in mente la reazione che tu descrivevi alla tassa sui mattoni, che era sul numero dei mattoni di rendere i mattoni più grandi, in modo tecnologicamente enormemente inefficiente, ma per evitare la tassa, quindi tutti gli effetti indesiderati delle tasse, parli della tassa sulle finestre con gli effetti di insalubrità, sono tutti effetti di cui dobbiamo tener conto come economisti tuttora per posare la domanda. Esatto, e sapete che allora, prendo l'opportunità delle tasse sulle finestre, cosa fecero gli uomini? Molto e semplicemente per ragioni estetiche fecero dipingere le finestre all'esterno della casa e quindi fu lanciata la moda del trompe l'oeil, che fu sviluppata proprio grazie a questo. Peccato che uno degli scotti terribili di questa vicenda fu il fatto che chiudendo le finestre, anzi bloccandole totalmente, si perde molto in igiene e quindi ci fu un incremento molto molto violento delle malattie polmonari, quindi in realtà la tassa portò qualche soldino, però la cura di queste malattie polmonari ne tolse molte allo Stato, quindi fu una tassa in realtà molto infelice, però creò la tecnica del trompe l'oeil. Volevo tornare un attimo al discorso acqua-navigazione e Cristoforo Colombo, che se vogliamo è stato un esportatore di materie prime, perché dall'America ci ha portato il mais, il mais, il pomodoro, le patate, non subito perché le patate arrivano dal Peru, ma pensate a una cosa che ho sviluppato un pochettino, che è la cosa seguente. Primo, c'è la notizia che sono state trovate, si chiamavano delle isole all'est del Gange all'inizio, non le hanno chiamate isole cinesi o asiatiche, le hanno chiamate isole all'est del Gange. Prima cosa. Seconda cosa. Quanto tempo ci impiegò la notizia per arrivare nelle corti? Allora, molto semplicemente due corti molto importanti, quindi Firenze e soprattutto Genova, e quindi penso a Sandra, scusami tanto, e Venezia, ebbero la notizia circa in dieci giorni, sapendo che, come sapete, Colombo ottenne dei finanziamenti molto importanti da Firenze. Attenzione, noi diciamo sempre che la famosa regina che ha dato i soldini quasi sotto banco a questo grande navigatore, sì, ci sono stati molti, però in realtà molto denaro è arrivato da Firenze. Allora, il Papa ricevette questa storia un mese dopo, molto semplicemente, ma gli uomini semplici seppero questa notizia entro i cinque anni successivi. Prima cosa. Seconda cosa. Pensate che Colombo, dopo il primo viaggio, già nel primo viaggio, importò il mais, perché è un prodotto estremamente fertile, molto molto produttivo. vi faccio una domanda, faccio il professore per due minuti. Avete un'idea di quanti chicchi di mais ci sono su una pannocchia di mais? Qualcuno mi dà una risposta? Quindi disseminate un granellino di mais, cinque mesi dopo, se c'è un po' d'acqua e c'è un po' di sole, avete quanti granellini su una pannocchia? Di più. Di più. Fra 600 e 900. Pensate. Quindi la produttività è incredibile. E se pensate al girasole, sapete quanti ce ne sono dei granellini? 1200 con in Ucraina fino a 2000. E queste piante salgono a 4 metri. Quindi sono incredibili. Qual è la causa? Le famose terre nere, quindi il Cernozion dell'Ucraina. Bene, allora, pensate che il mais iniziò a essere diffuso verso il 1525, quindi esattamente 35 anni dopo la scoperta. Pensate che la patata, dunque, la scoperta, non la scoperta, ma la visita più o meno militare del mondo peruviano, degli spagnoli, avvenne nel 1536, ebbene la patata arrivò verso il 1560 in Europa, sapendo una cosa molto divertente della patata, che gli uomini cosa mangiarono? Chiaramente sapete che tutta l'alimentazione nella nostra storia è molto semplice. Più il prodotto che si mangia è sottoterra, più è vicino al diavolo, più invece è nel cielo, è vicino agli dèi, a Dio. Ecco perché molte corti del Rinascimento mangiavano soprattutto degli uccelli, perché? Perché erano gli animali che erano più prossimi del Signore. E quindi i contadini non mangiavano il tubero, ma mangiavano le foglie. Ma le foglie contengono della solanina, che è un prodotto tossico, terribile, che vi dà degli enormi mal di pancia quando va tutto bene, e quando va male vi porta per sempre nel cielo. Veramente. E quindi molto semplicemente il famoso tartuffolo, in Italia fu diffuso, ma invece in Francia, come sapete, io abito in via Parmentier, ci fu un signore che era un farmacista militare, il quale fu prigioniero, siamo nella guerra dei sette anni, quindi 1756-63, molto semplicemente questo signore fu fatto prigioniero quattro volte, e quattro volte fu liberato, lui era in Germania, erano i nemici dell'epoca, perché all'epoca tutti gli eserciti erano soliti scambiarsi dei prigionieri, un medico contro un medico, un farmacista contro un farmacista, un uomo che curava i cavalli, quindi un veterinario contro un veterinario. Questo signore, quando era in Germania, era in Prussia, mangiava delle patate, e non ebbe nessun problema, perché sapete che la patata contiene il 50% di quanta vitamina c'è nel limone. Ecco perché i navigatori, che avevano il problema dello scorbuto, iniziavano a mangiare molte patate, primo perché è facile da trasportare, ha qualche problema, qualche germoglio, però non è così grave, ma soprattutto li curava contro lo scorbuto, e questi non lo sapevano, che era in realtà un prodotto eccezionale anti-scorbuto. Ma pensate che altri prodotti arrivarono molto molto più tardi, pensate al chinino, il chinino arriva dal Peru, il chinino è un prodotto essenziale perché è un antipiretico, quindi lotta contro la temperatura, contro la febbre, e cura contro la malaria. E ci fu nel 1527, in realtà un concilio, per non concilio, quando si legge il Papa, scusate, conclave, cum clavis, scusate. Allora, è un conclave in cui sei cardinali morirono, oltre ai vari uomini che erano nel loro seguito, perché erano a Roma, e le paludi pontine, chiaramente erano un grande cimitero per gli uomini, perché c'era la malaria. E il Papa allora disse ai gesuiti che avevano il monopolio del chinino, signori miei, smettete di fare dei soldini sul chinino, adesso ci date il chinino per tutti, e a partire dal 1600 e qualche cosa, quindi molto molto più tardi, il chinino fu un prodotto che era distribuito normalmente, se vedi, in Italia, era distribuito per esempio dal sale e tabacchi, per esempio. Ma quindi abbiamo un nucleo di prodotti che arrivano molto molto tardi. Per esempio, ci sono dei prodotti come il pomodoro. Il pomodoro è bello da vedere, quindi le corti utilizzavano il pomodoro come un fiore, molto bello, da esporre. Pensate per esempio all'ananas, questa è una cosa divertente, l'ananas è un frutto che quando è tagliato smette di maturare, quindi pensate che all'epoca ci volevano circa 40 giorni con molta rapidità per prendere dell'ananas che arrivava dai Caraibi e portarlo in Europa, e quindi quando arrivava era o marcio, oppure lo tagliamo quando era ancora verde, quindi non era buono. Per esempio a Carlo V, a Carlo V furono offerti degli ananas, i quali erano, onestamente, erano marci, quindi lui li annusò e disse no grazie, vielen Dank, perché lui parlava tedesco, quindi no, non lo voglio. Allora, cosa successe? Molto semplicemente, i grandi, i grandi ricchi, i grandi rei e così via, Luigi XIV, come al solito, facevano costruire delle serre per coltivare questo prodotto e per averlo il più maturo possibile, ma accanto. E costava così caro che i ricchi dell'epoca affittavano il frutto da esporre sul tavolo quando imitavano delle persone importanti, ma no, lo guardavano e non lo mangiavano. Molto interessante, no? E abbiamo il caso, per esempio, ne ho parlato prima, del girasole. Ebbene, il girasole come pianta è molto bella in realtà, quindi per molto tempo le corti utilizzarono il girasole come prodotto estetico, essenzialmente. Poi ci furono degli russi che iniziarono a coltivarlo e fecero molti studi e riuscirono a ottenere dei risultati molto brillanti. Poi gli americani arrivarono e quindi presero tutti questi nuovi prodotti e hanno sviluppato il mercato a casa loro. Quindi è divertente, è un prodotto che parte dall'Estato Unito e va in Russia e fanno del ping-pong. Se posso aggiungere una cosa riferita a quello che dicevi prima, a quanto le informazioni impiegavano ad arrivare, a una differenza di cinque anni fra i primi informati e le persone che sapevano, in una parte del libro descrivi l'importanza di chi, per coloro che ricevono le informazioni per primi di reagire in modo consono. Da lì si vede forse come le classi dirigenti di allora, le elite che ricevano le informazioni potevano veramente determinare il corso della storia, nel senso che sottovalutare magari un'informazione relativa all'apertura di una nuova rotta commerciale poteva dire per il proprio paese ridurre le opportunità di sviluppo nei secoli a venire alle volte. Pensavo, mentre leggevo e anche mentre parlavi prima, forse a quanto la velocità di informazione di adesso sia, per certi versi, un fattore che differenzia molto rispetto al tempo di allora e forse ai canali che adesso invece servono per mantenere la segretezza, perché ci sono altri modi per ottenerla, meno evidenti però. Quindi forse si passa dalla chiarezza nella differenza di informazione a una maggiore opacità che è interessante. Allora, vi faccio ancora una volta una domanda, quindi scusatevi vi bombardo di domande. Avete un'idea di quanto tempo ci voleva per una lettera, un dispaccio militare o politico ma molto importante che partiva dall'Escurial, quindi da Madrid, firmato da Filippo II e per arrivare a Manila, quindi nelle Filippine. Avete un'idea di quanto tempo ci metteva? Tu lo sai. 12 mesi, pensati, 12 mesi per andare e poi 12 mesi per ritornare. Ecco perché, per esempio, e ne abbiamo ancora la prova, la famosa guerra dei Sette Anni molto semplicemente iniziò, fu la prima vera guerra mondiale perché fu combattuta in Asia e anche in Europa, soprattutto in Europa. Ebbene, in Asia iniziarono la guerra un anno dopo, perché la notizia arrivò un anno dopo e terminarono in Asia la guerra un anno dopo la pace firmata in Europa. Quindi siamo davanti a delle follie, però è così. Ma pensate che, per esempio, all'epoca, non so, diciamo, un signore che si chiama Augusto mandava un messaggio militare molto importante ai suoi uomini in Inghilterra, ebbene, ci volevano 30-32 giorni. Fino all'epoca di Napoleone, 30-32 giorni. Solo con il treno, le ferrovie, fu tagliato in modo sensibile questo tempo. Quindi è un qualche cosa che cambia totalmente il mondo. E ancora una volta, pensate, io sono un vecchio signore, diciamo vecchio, tolgo il signore, lo penso, ve lo direte voi se pensate che io sia un vecchio signore. Allora, molto semplicemente, io mandavo delle lettere, per esempio, negli Stati Uniti e arrivavano, va, 5-6 giorni dopo, nel caso migliorissimissimo, oppure 15 giorni dopo. L'altro giorno parlavo con un caro amico che era a Tokyo e gli ho detto, e io ero, guarda caso, sul computer, e gli ho detto, oh, attenzione, avete un terremoto. E lui non lo sapeva ed era a Tokyo. E io l'avevo visto perché il flash dell'agenzia mi è arrivato sotto il naso. Cosa significa questo? Siamo in un mondo totalmente diverso dove l'orologio, io non ce l'ho più, perché penso, serva poco onestamente l'orologio, o quasi, ma sono cambiati veramente i tempi in modo drammatico, con delle velocità supersoniche. Pensate che adesso, quando volete mandare una merce o fare un viaggio, andate nel mondo intero in massimo 24 ore. Tutto lì. E il giro del mondo in 80 giorni è stato scritto un secolo fa, attenzione. Mi colpiva la... Ma anche la questione che citavi della caravella d'annuncio, che per visti i tempi favoriva l'arrivo, precedeva l'arrivo della merce, l'arrivo dei galeoni, che immagino volesse dire tantissimo anche su quanto bene erano organizzati i commerci. Immagino che sia una... O pensate alla posta, tra l'altro i famosi Tasso e Torre, quindi italiani di Bergamo, che erano diventati i grandi maestri, anzi mastri, della posta dell'impero ausburgico. E voi sapete meglio di me che, guarda caso, i taxi sono di colore giallo perché il simbolo del colore di questa famiglia era il giallo. E ancora un'altra cosa, sapete che la posta ha come simbolo il famoso corno perché questi signori si facevano annunciare un corno. Quindi abbiamo delle tradizioni che sono rimaste e quando andate da qualsiasi parte nel mondo i taxi quasi dappertutto sono gialli. Grazie a la famiglia Turn und Taxi. Forse paradossalmente quello che mi veniva da pensare è che era molto più difficile organizzare il commercio allora di quanto non lo sia adesso. Nel senso che le tecnologie adesso ci permettono di semplificare l'organizzazione del commercio una volta anche solo per quanto riguarda le licenze per la costruzione del cosiddetto trust quindi per avere un sistema di mercanti di cui ci si potesse fidare per l'organizzazione delle spedizioni tutto doveva essere estremamente complesso e quindi bisognava essere veramente bravi a farlo. O per il pagamento voi sapete che Piacenza divenne fra il 1550 1620 30 il grande la grande piazza dove si scambiavano non le merci ma solo dei papiri solo della carta quindi erano lettere di cambio e così via ed era tutta l'Europa che mandava a Piacenza e queste fiere duravano 15 giorni dove c'era tutta questa grande compensazione dei vari flussi finanziari con o il pagamento immediato oppure il pagamento nel futuro quindi con il finanziamento ecco perché si chiamava denaro o lettera che è rimasto in tedesco Geld und Brief che significa o ti do i soldi subito oppure ti faccio una lettera in cui ammetto che ti darò i soldi nel futuro quindi sono cose che hanno cambiato ma attenzione pensate che siamo parliamo di cose in questo caso del 1600 ma solo quando parlavo prima di Napoleone dei viaggi e così via solo di 200 anni fa quindi non è mica tanto in 200 anni cosa è successo ma pensate cosa è successo per esempio con l'internet adesso mandiamo una lettera in 40 secondi nel mondo intero e poi non la mandiamo solo con destinatari possiamo mandarla con 40 destinatari che sono sparsi nel mondo cosa che è eccezionale però bisogna tenere presente che il sole ci manda i suoi raggi ci vogliono 8 minuti e mezzo che se ricordo bene se mandiamo un messaggio su Marte ci vogliono 26 minuti o cose questo tipo mi correggete ma so che è l'ordine di grandezza quindi abbiamo ancora dei limiti allora o superiamo la velocità della luce io non ci credo ma vedremo oppure avremo dei limiti che forse è un modo da ricordarci che abbiamo degli omni hanno dei limiti attualmente stiamo ragionando diciamo con velocità luce molto bene gli aerei viaggiano a 900 km all'ora molto bene quindi abbiamo fatto di grandi balzi però abbiamo dei limiti i limiti sono forse questi dello spazio ecco e Marce è un pianeta accanto a noi non è Giove o cose di questo tipo volevo coinvolgere i due altri economisti cioè Boffa e Russo sul tema della globalizzazione perché tu scrivi nel libro che l'argento fu il primo caso di globalizzazione ma proprio ieri qui a Torino si è finito il testo dell'economia dove si diceva che bisogna ripensare la globalizzazione e sta prendendo un po' forma questa idea che quell'idea del mercato del libero scambio che avrebbe portato ovunque democrazia e sviluppo non funzioni più così tanto ecco e si vada magari verso più uno scambio tra paesi che hanno una certa idea di identità di società uguali identica cioè quindi magari vedere da una parte il mondo occidentale e dall'altro sul globale come la vedete voi questo questo passaggio grazie io io credo che sia estremamente complicato per per la geografia delle risorse che la geografia delle risorse e resta comunque estremamente concentrata e anche se la tecnologia è nel nel tempo è stata estremamente efficace nel ridurre l'impiego delle risorse per unità di prodotto per sostituire risorse di un tipo con risorse diciamo più abbondanti all'interno dei 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 prodotti alla fine e per riutilizzare le risorse per cui a tutti gli effetti le discariche voglio dire non dovrebbero esistere perché tutto può essere no riciclato e si può trovare l'oro persino nella nei rifiuti cioè su youtube ho guardato circola un video di pubblicitario di un impianto di riciclo dei rifiuti che opera in svezia che alla fine dell'anno ha estratto un sacchetto d'oro più o meno di questa dimensione dove vanno i rifiuti di oro ma chi lo sa può essere chi lo sa allora anche se la tecnologia ha fatto tutto questo poi e anche se il peso percentuale ho guardato prima dell'economia del settore estrattivo in termini di valore aggiunto sul PIL è inferiore al 2% e quindi vuol dire che la tecnologia è stata estremamente efficiente nel farci risparmiare e estrarre a costi sempre più bassi trasportare a costi sempre più più bassi e a farci risparmiare in qualche modo l'uso delle risorse in particolare quelle esauribili sul prodotto aggiungendo al prodotto valore attraverso delle fasi di appunto lavorazione sempre più complesse alla fine però esiste sempre la possibilità che esistono sempre dei minerali o delle risorse nuove sono geograficamente concentrate la novità degli ultimi anni lo sapete tutti sono le terre rare le terre rare sono particolarmente abbondanti in Cina un po' meno abbondanti in altri paesi asiatici in Oceania poi ce ne sono negli Stati Uniti in Brasile in Europa sembra che ce ne siano ce ne siano poche quindi alla fine la globalizzazione è tra virgolette una lo scambio delle risorse diventa una necessità e quindi qualche forma di collaborazione bisogna trovarla quindi credo che la globalizzazione magari deve mettere bisogna fare un tagliando il capitalismo laddove ha prodotto delle fratture importanti ma probabilmente non si può rinunciare poi c'è il fatto che tutto ciò che non si trova qui lo puoi cercare nello spazio ma anche lì poi il rischio è che ci facciamo la guerra perché qualcuno si sta già attrezzando per andare a fare credo sia la Cina che gli Stati Uniti per andare a fare delle emissioni su Marte per cercare dei minerali ma ma almeno quattro grandi paesi cioè Stati Uniti Cina Russia e anche Giappone non hanno mai ratificato il trattato che dice che le risorse della Luna sono di tutti cioè sostanzialmente dell'umanità sono da condividere questo vuol dire che quando andremo a cercarle sulla Luna e questo prima o poi potrebbe anche avvenire in particolare quelle più più difficili da trovare e quindi più costose rischiamo poi di farci la guerra là diciamo che da questo punto di vista non sono né ottimista né pessimista vedo soltanto che la tecnologia ha contribuito a migliorare molto la sostenibilità diciamo della diffusione del benessere quindi noi abbiamo molto più si è creato molto più benessere negli ultimi duecento anni che probabilmente nei duemila anni precedenti cioè la velocità con cui la tecnologia e il mercato cioè l'economia mercato e tecnologia hanno permesso la produzione e la diffusione del benessere però non dobbiamo continuare mentre è sicuro che tutti quanti ci applichiamo sulla scienza sulla tecnologia quello di pensare le regole dello scambio e quindi cercare le buone regole dell'economia è una cosa da fare perché se no il rischio è quello di appunto farci 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 le guerre poi su alcuni adesso poi dico tanto più una cosa su ci sono dei metalli come l'oro che sono estremamente desiderabili ma sono poco utili ma sono comunque desiderati o comunque no sono poco no dopo ne parliamo è vero però per esempio da un punto di vista della monetica come tallone serve quasi più a nulla il totale di M2 sul pianeta è di 110 mila miliardi di dollari e con quella è la moneta cioè quello che noi usiamo per fare le transazioni il totale delle riserve valutare di tutte le banche centrali sono 12 mila miliardi quindi siamo a il 10% il totale delle riserve aure dentro le riserve valutarie siamo a prezzi dell'oro dell'anno scorso intorno ai 2000 e quindi siamo più o meno tra il 2 e il 3% della moneta che esiste quindi per esempio il desiderio di possedere l'oro come sostituto della moneta è un desiderio tra virgolette che può trovare consenso però non grandissima razionalità economica dopodiché trova consenso e quindi e quindi lo si usa d'altronde trova consenso anche l'uso del bitcoin che non solo non ha l'utilità dell'oro ma cioè non ha un valore valore d'uso ma distrugge distrugge energia per essere prodotto distrugge energia per essere prodotto non produce interessi mentre per esempio un titolo del tesoro li produce quindi eppure sembra che sia desiderato e quindi ci sono giorni che vale il 5% in più del giorno prima questo tra virgolette non mi stupisce perché fa parte del fatto che l'uomo così come fa guerre che a volte sono più dannose che razionali non tutte le guerre sono giustificabili alla luce dei vantaggi economici che possono produrre per una parte se si facesse poi l'analisi costi benefici delle guerre non sarebbe ecco anche ci sono anche casi di risorse come di commodities neonate per effetto della tecnologia e in qualche modo del desiderio umano come il bitcoin che in realtà distruggono energie per essere fatte e non producono interessi quindi l'uomo per chiudere è un essere realmente strano quindi voglio dire non solo gli uomini vanno 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 gli uomini vanno educati e l'economia deve essere studiata perché le buone regole tra virgolette servono allora vediamo se si accende il mega verde ecco qui è diventato rosso sono molto d'accordo con quello che dicevi tre cose rapide da aggiungere uno che secondo me non dobbiamo dimenticare che la globalizzazione a livello planetario ha aumentato di molto il benessere e la prosperità in diverse parti del mondo quindi prima di buttarla prima di buttarla via dobbiamo pensarsi ovviamente non è perfetta nulla è perfetto tutto è migliorabile seconda cosa che la globalizzazione però ha bisogno di un qualche consenso almeno sulle regole del gioco un level playing field un qualcosa può essere il mercato il sistema capitalistico mercato regolato però se ci sono dei paesi che non vogliono stare al gioco è difficile sono magari autocrazie paesi che vogliono comportarsi diversamente ovviamente torniamo a una globalizzazione per regioni regionale fra in qualche modo chi ci sta e chi decide di adottare un sistema di regole all'interno del quale si gioca quindi regole del gioco abbastanza comuni terza cosa c'è un altro problema un altro ostacolo alla globalizzazione che riguarda proprio noi paesi democratici occidentali che in tutti i paesi democratici per fare le cose occorre il consenso dell'opinione pubblica e questo consenso in genere c'è quando le cose vanno bene quando la ricchezza aumenta quando si produce sviluppo quando magari si è in un momento in cui per ragioni magari di pura evoluzione tecnologica si ha un minimo di rallentamento nella crescita mondiale poi le persone cominciano a protestare perché si rendono conto che la ricchezza media della loro generazione magari è inferiore uguale stagna rispetto alla generazione precedente e a questo punto una possibile reazione è quella di richiedere politiche antiglobalizzazione e i politici generalmente fanno quello che chiede l'opinione pubblica quindi a quel punto lì questo è un altro rischio che ci siano queste politiche che rallentino gli scambi io penso che sia importante ricordare a tutti anche a livello come dire di università quanto meno senza ovviamente voler indirizzare le scelte ma ricordare a tutti quali sono stati i benefici e anche i costi e anche i rischi della globalizzazione in modo che poi l'opinione pubblica faccia delle scelte informate che mi sembra una cosa essenziale io vorrei fare quattro osservazioni a quello che è stato detto primo secondo me attualmente stiamo vivendo un grosso braccio di ferro fra il west e il the rest che è molto importante secondo me pensate che per esempio il G7 creato nel 73 ha un peso attuale in PPP quindi questo è il calcolo che faccio perché è quello che secondo me vale del 27% solamente ed eravamo al 45% nel 2000 la Cina sempre in PPP valeva il 7% nel 2000 vale il 19% quindi ci sono certe cose che stanno cambiando e come sapete c'è attualmente un desiderio di alcuni paesi BRICS in particolare di dedolarizzare il sistema monetario sapendo che naturalmente il dollaro ha un vantaggio terrificante che è politico oltre che quello economico e quindi penso che per la prima volta stiamo assistendo dal 45% a un certo tipo di conflitto di questo tipo il secondo è una cosa che vorrei raccontarvi ho fatto uno studio che è stato pubblicato dalla Hava Business Review in cui ho preso un centinaio di materie prime che vanno dal vino ai cereali dal cotone al caffè dal cacao allo zucchero ai pesci alla carne quindi vari prodotti e molto semplicemente ho comparato la produzione quindi in tonnellate di questi di questi prodotti nel 1975 quindi dopo 73 perché 73 sono cambiate molte cose e le ho comprate col 2019 perché nel 2020 21 e così via abbiamo avuto degli sviluppi molto molto strani allora ho visto che dappertutto quindi è cosa molto importante la produzione è salita parlo di quantità quindi non parlo di valore quantità fra il 2,5 volte fino a 8 volte nel caso del vino allora mi sono detto cribio qua c'è qualche cosa che è interessante allora ho preso ho deflazionato i prezzi e ho visto ed è la mia grande sorpresa che tutte le materie prime tranne e ve lo dico immediatamente tranne nel settore dell'energia i prezzi sono reali sono rimasti relativamente stabili una cosa incredibile chiaramente nel caso dell'energia abbiamo avuto un braccio di ferro fra i consumatori i produttori i produttori l'hanno vinto ci hanno dato un grande colpo di martello sulle dita ne paghiamo ancora adesso le conseguenze guardate quello che è successo ieri con la decisione dell'OPEC bene perché c'è stato questo tipo di grande balzo nei volumi perché ci sono dei grandi progressi nella tecnologia che è l'errore che fece il club di Roma non so se vi ricordate anzi io me lo ricordo perché sono un vecchio signore nel 72 ci fu questo rapporto Midas e così via in cui si disse se continuiamo così in X anni ma molto rapidamente non avremmo più rame non avremmo più tutta una serie di materie prime quale fu il grandissimissimo grave errore di questi signori MIT quindi non sono degli stupidi non tennero conto né dei prezzi né della tecnologia e fu un errore drammatico io mi ricordo all'epoca lavoravo alla Fiat ed era una nostra grossa critica che abbiamo fatto ma una critica di tipo oggettivo quindi non era filosofica la critica il loro messaggio era molto interessante però c'era un errore tecnico allora se voi pensate bene vi do due due esempi di grossi progressi pensate per esempio che quando c'è una miniera di rame che è queste famose miniere open pit quindi sono questi grandi bacini a cielo aperto ebbene se si termina se non si riesce più a scavare andare sotto e se si fa l'ipotesi che ci siano ancora dei giacimenti sotto molto semplicemente si scende accanto con una miniera che si chiama non a cielo aperto ma una miniera classica quindi chiusa quindi con dei pozzi e delle delle gallerie pensate un'altra cosa per esempio che solo vent'anni fa non si sapeva trivellare per il petrolio in modo trasversale quindi tutte le trivellazioni erano solo verticali e si scendeva a 3.000 metri si scende attualmente a 6.000 metri pensate che tutti i pozzi petroliferi che ci sono per esempio nel Brasile sono tutti nell'acqua e i centri di produzione di estrazione sono sulla terra e poi in realtà vanno a pescare il petrolio a 3.000, 4.000, 5.000 metri lontani e un'altra cosa ancora per esempio abbiamo dei grossi vantaggi che sono stati realizzati nella tecnologia pensate all'introduzione dei polimeri quindi il 10% del petrolio mondiale finisce in polimeri un qualche cosa che mia nonna non conosceva che mia mamma ha iniziato a conoscere adesso senza polimeri avremo metà delle auto che non funzionano e peserebbero il doppio un'altra cosa che volevo raccontare sulla Luna ho parlato con alcuni amici che lavorano alla NASA attenzione non significa nulla però mi hanno detto che il costo del trasporto di questi minerali sarebbe così elevato che è veramente scoraggiante quindi l'idea la migliore sarebbe invece di andare a cercare questi minerali nell'acqua molto semplicemente ultima cosa oro allora su questo non sono d'accordo pensate che l'oro si trova dappertutto primo in una cosa come questa ci sono due grammi d'oro per esempio seconda cosa si trova nei cockpit nei vetri dei cockpit dei aerei e delle ferrovie quindi i treni a grande velocità si trova in tutta la tecnologia altissima tecnologia si trova stupidamente forse nel settore della dell'alimentazione sapete che si mangiano dei dolci che condengano un po' d'oro ma molto molto oro si trova veramente in molte applicazioni tecniche e l'oro grazie alle sue qualità non è rimpiazzabile potremmo eventualmente tentare il platino ma bisogna rodiarlo ma non otterremo le stesse qualità quindi non sono totalmente d'accordo è vero che l'oro non serve nulla come moneta questo è evidente però allora mi chiedo perché le banche centrali ancora hanno comprato l'anno scorso un fracco d'oro e lì è un mistero io parlo parlo con con Panetta che è un vecchio amico e gli ho posto questa domanda e mi ha detto guarda non so risponderti e sapete che dell'oro quanto ci sono ci sono esattamente 203 mila tonnellate d'oro sulla terra sotto questa forma sotto forma nei Coppitt nelle Bannhofstrasse a Zurigo eccetera eccetera io ho visto ho avuto la fortuna di vedere le riserve d'oro della Fed che sono a New York che non sono però le riserve d'oro degli Stati Uniti perché quelli sono come sapete a Fort Knox ma e ho visto 8000 tonnellate d'oro davanti a me ero un po' emozionato come potete vedere potete immaginare però è una cosa incredibile perché io ho lavorato per la UBS a Zurigo al De Metalab Tailum e vi assicuro ho visto le riserve d'oro che la banca svizzera a Paratplatz ha è impressionante andate sotto di 5 piani eccetera eccetera e c'è qualche cosa di strano se pensate i grandi 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 servitori del passato dei grandi imperatori erano esattamente la stessa cosa pensate per esempio che Alessandro Magno ha avuto la fortuna di trovare 190.000 si chiamano talenti un talento vale 29 chili d'oro e argento nel tesoro di Dario questo gli ha permesso di fare la grande spedizione in India pagare tutti i suoi soldati molto molto bene azzerare tutti i debiti dei loro soldati pagare i loro matrimoni eccetera eccetera scusate e la cosa impressionante è che molto oro permise delle grandi 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 follie agli uomini chiaramente ancora una volta però Alessandro nel 300 prima di Cristo quindi 2300 anni fa e continuiamo a comprare l'oro tutto lì quindi mi sto chiedendo cosa c'è dietro all'oro sapendo che ci sono un fracco di definizioni terrificanti sapete bene che Lenin voleva lastricare le latrine di mosca e così via però adesso vendono ancora un po' d'oro per finanziare gli acquisti di munizioni quindi è una cosa un po' strana però c'è un'altra materia prima che le indica che sarà quella del futuro il rame esatto allora perché dice che addirittura si arriverà ad avere un valore due volte e mezzo a quello di adesso allora io penso una cosa di questo tipo primo queste sono non sono stime mie perché io non valgo nulla però sono stime dell'AIE e dicono noi dovremmo avere un incremento della domanda di rame di 2,5 volte quindi non 2,5% ma 2,5 volte la domanda attuale due volte e mezzo e nel caso del litio 40 volte 40 volte mi sembra moltissimissimo però e quindi io anticipo e questo spero veramente mi auguro di sbagliare in modo totale però non sono il suolo a vedere queste cose potremmo avere due crisi nei prossimi anni la prima nel 27-28 quindi vi do anche le date precise però signore spero di sbagliare onestamente e ancora una volta non sono solo io ma sono uomini del total dell'AIE del pentagono e così via e allora qual è la ragione è che voi sapete che un pozzo petrolifero o un pozzo di gas perde il 5% meccanicamente ogni anno quindi in 20 anni un pozzo caputo finito non c'è non c'è più nulla da fare tranne che si facciano dagli investimenti primo secondo se noi vogliamo un pozzo nuovo dobbiamo e decidiamo stasera di fare un nuovo investimento nel caso migliorissimissimo quindi ottimale avremo fra 7 anni la prima goccia di petrolio terzo stime dell'AIE ci sono delle anticipazioni che dovremmo ridurre la domanda dovremmo probabilmente ridurre la domanda di petrolio dell'1,5 per anno per i prossimi anni e quindi faccio un calcolo semplice vedo da una parte meno 5 e dall'altra parte meno 1,5 abbiamo i 3,5 di differenziale però potremmo continuare a produrre del petrolio se facciamo degli investimenti però vi sparo ancora due cifre che sono terrificanti siamo nel 2014 investimenti 800 miliardi nel settore del petrolio e del gas 2021 326 quindi tagliati in due ma attenzione non sono due cifre separate è un trend che sono passati da 800 a 300 le ultime informazioni che abbiamo sono una riduzione supplementare di questi tipi di investimenti quindi temo che avremo dei problemi molto seri in energia sapendo chiaramente che avremo questo evidente dell'energia verde che è quindi un qualche cosa di molto molto importante però non sufficiente per coprire la caduta dell'offerta di petrolio e naturalmente adesso aggiungo l'altra parte ancora più pessimista è quella sugli investimenti nel settore della 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 miniera della delle viniere come dicevo quindi abbiamo delle previsioni di grossi consumi di minerali nel mondo per questa grossa rivoluzione verde che stiamo vivendo buonissima idea perfetto però ancora una volta gli investimenti mancano per due ragioni la prima è che sono investimenti che presentano molti molti rischi io parlo per esempio con l'uomo che finanzia gli investimenti di Paribas nel settore mondiale mi dice ma noi abbiamo primo un primo problema che è quello di sapere quale sarà il prezzo del rame fra 10 15 anni sapendo ancora una volta questa è una cosa che dobbiamo tenere in testa che se noi vogliamo realizzare ancora domani mattina il primo investimento in qualsiasi tipo di minerale nel mondo avremo bisogno di almeno 12 15 anni prima di avere il primo chicco non chicco scusate ma l'ingotto di questo di questo metallo se ancora una volta abbiamo fortuna e quindi c'è un rischio molto molto pesante seconda cosa molte imprese sono molto molto scettiche su questi investimenti e terzo le banche sono molto scoraggiate da realizzare questi investimenti perché molto soltanto sono investimenti che consumano molta molta energia quindi hanno veramente molta 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 paura temo che queste due previsioni che io vi sparo per occuparvi un po' siano forse troppo pessimiste però vi assicuro che quando vi dico questo cerco di essere il più serio più oggettivo possibile non c'è nessuna idea politica dietro nessuna filosofia ed è solo qualcosa di reale è un ingegnere io non sono un ingegnere che che vede queste queste realtà e che fa dei calcoli meccanici sono forse un economista e cerco di fare questi calcoli e vedo che c'è un buco da qualche parte secondo me ci siamo lanciati nella questa rivoluzione verde che è molto interessante e mi sembra che siamo partiti con il fucile e i fiori nel fucile però ci mancano le munizioni questo è il dramma mi sembra di essere un po' l'armata russa non so se avete letto vi invito a leggere un libro che è molto interessante che vi permetterà secondo me vi stuzzicherà nella lettura della realtà della guerra attuale si chiama il tenente Kijie Kijie ed è una vicenda che si svolge all'epoca dello zar è stato scritto verso il 1930 circa non è stato stranamente mandato l'uomo non è stato mandato in Siberia o hanno bruciato il libro e racconta di una cosa molto molto divertente siamo a Mosca c'è l'imperatore che deve ogni sera controfirmare il rapporto giornaliero degli ufficiali che fanno parte dei corazzieri dell'imperatore e uno scribacchino sbaglia a scrivere il nome di uno di questi signori quindi il famoso sottotenente Kijie è stato creato perché hanno sbagliato il nome di qualcuno che esiste questo signore che esiste è buttato fuori perché non esiste più sul papiro ed è creato un nuovo signore un nuovo ufficiale il quale naturalmente non esiste primo secondo tutti gli schiamazzi tutti i problemi che possono svolgersi all'interno della caserma che è accanto allo zar diventano la colpa di questo signore che non può difendersi non esiste e allora lo zar decide di mandarlo in Siberia classica punizione però in Siberia questo signore questo ufficiale è bravissimo scusate ho dimenticato è mandato in Siberia quindi partono due soldati con un uomo che non esiste fra di loro quindi due persone di un trio quindi questo signore non c'è ci sono solo due persone che avanzano bene allora questo signore in Siberia si comporta molto bene non fa nulla quindi non commette errori e il melo zar chiede quindi che sia ripatriato a Mosca e vorrebbe anche promuoverlo quindi continua la sua carriera diventa era sottotenente diventa tenente sale ai gradi di maggiore e così via poi dato che è molto bravo perché nessuno osa più visto che c'è una certa protezione dello zar accusare questo tenente ex tenente Kijet di fare delle stupidaggini allora lui è molto bravo quindi è diventato un ufficiale di grandissima qualità e lo zar dice ma vorrei incontrarlo per nominarlo probabilmente responsabile dell'esercito e allora lì cade tutto tutto l'impianto nel senso che devono eliminare questo signore quindi immediatamente è ammalato di una malattia molto grave che è infettiva e poi muore ecco questo finisce questo mi sembra un po' l'immagine dell'esercito di Putin e vorrei a questo livello farvi una domanda ma io non ho la risposta ho un sentimento non avete l'impressione che per 30 anni 40 anni ci hanno venduto l'idea che noi avevamo un nemico che si chiamava la Russia anzi l'Unione Sovietica armata fino ai denti e che noi dovevamo assolutamente giustamente armarci per difenderci contro questi signori ma questi signori poi quando vanno in guerra si prendono delle grandi lignate se vanno in Afghanistan attualmente si sono presi alcune grosse lignate in Ucraina e così via quindi ho l'impressione che ci hanno venduto un qualche cosa che direi allora mi resto in Russia sicuramente conoscete i villaggi di Potienkin che erano i villaggi che Potienkin che era il primo ministro con grande simpatia per l'imperatrice simpatia anche nel letto questa gentidonna era molto molto brava su tanti punti di vista fino a consumare tre uomini per notte quindi signori mie pensateci ebbene questo signore quindi quando conquistò ma questa è verità quando conquistò la la parte che attualmente è dibattito quindi mare da la Zove e così via fece visitare all'imperatrice queste regioni e cosa fece? Lui fece costruire dei villaggi di cartapesta e di terra celata dove tutto era bello la naturalmente la la l'imperatrice non scendeva dalla sua carrozza per sporcarsi i piedi quindi li vendeva da lontano e lei era era molto contenta perché tutto andava benissimo e questo signore riuscì a vendere un po' come i generali italiani vendettero a Mussolini nel 36 37 38 dei carri armati che non desistevano nel senso che facciano girare a Roma tre volte gli stessi carri armati vi ho lasciato alcuni problemi da risolvere vorrei che voi magari ci pensaste prima di passare le parole per le conclusioni a Giuseppe Russo volevo chiedere proprio in sintesi oggi è la giornata mondiale dell'ambiente ricordiamo allora come il petrolio ha salvato le balene ma ecco sì che è un particolare curioso una cosa divertente sapete che quando siamo nel 1860 o circa e molto olio che era necessario per tutti gli impianti delle imprese industriali tutto lì il petrolio che era tutto l'olio che era utilizzato per lubrificare le ferrovie e così via era olio di balena e quindi c'era a Boston un'industria della balena che era la caccia della balena 1500 balene all'anno pensate che era la quinta industria americana industriale quindi nel 1860 quindi industria una cosa incredibile arrivò il petrolio e quindi ci fu una concorrenza terrificante fra l'olio di balena sapendo che la balena serviva anche per i corsetti del signore per fare gli ombrellini serviva per delle ragioni nei profumi per la chimica medica quindi la farmacia e molto semplicemente ci fu una crisi drammatica di Boston che periclituò in modo drammatico e la balena quindi fu probabilmente salvata salvata dal fatto di aver scoperto il petrolio se posso telegraficamente proprio riferendoci a quello che dicevi prima sugli investimenti in energie verdi viene alle volte la tentazione di programmare gli investimenti per dire facciamo una programmazione facciamo una politica bottom up di programmazione e poi alla fine dall'altra parte però c'è il fatto che il progresso degli investimenti fatti dal mercato alle volte ci stupisce quindi alla fine siamo sempre a discutere di un trade off fra programmazione e libertà di investimento che spesso sperando che le tue previsioni si rivelino troppo pessimistiche magari l'innovazione ci porta a rendere quelle previsioni effettivamente pessimistiche come il ritrovamento del petrolio ha consentito di salvare le balene lascerei al direttore del centro di nauti di Gisela Perus sulle conclusioni siamo al limite si grazie ma allora io devo dire che sono delle cose che mi hanno impressionato tanto ringrazio ovviamente sia Federico Boffa che professor Giraudo del seminario perché è stata un'occasione veramente ricca di approfondimento su questo tema mi hanno impressionato diverse cose e poi devo dire una cosa una è che per quanto la la tecnologia in qualche modo cerchi di eliminare i vincoli di scarsità questi alla fine risaltano fuori cioè tanto meno nonostante si appiattisca che si riduca il valore aggiunto del settore estrattivo sul totale nonostante questo è sempre strategico e una voglio dire crisi di una materia prima solo una crisi di una materia prima può propagarsi a tutti a tutti i settori economici nonostante esso pesi poco quindi non è un 2% qualsiasi e quindi occorre da pesante esatto cioè non è un 2% qualsiasi è un 2% strategico e quindi anche se grazie alla tecnologia ne abbiamo ridotto l'importanza quantitativa però c'è una importanza qualitativa che non può essere tra virgolette trascurata perché da primo non si può portare a zero e secondo comunque gli elementi una crisi in qualcuno di quei delle componenti può avere effetti catastrofici su tutto il resto dell'economia la seconda cosa che quindi siamo riusciti con la tecnologia e con l'economia a diciamo ridurre il peso economico ma l'importanza economica forse si è addirittura cresciuta quindi io posso fare magari posso non fare programmazione economica di lungo termine sul su prodotti come le magliette di cotone perché posso immaginare che se diventassero scarse domani verrebbero sostituiti con qualche altro tipo di filato e ritornerebbero abbondanti comunque diciamo che il mercato mi darebbe una soluzione in breve tempo viceversa su buona parte dei prodotti primari questo non succede e soprattutto di quelli strategici e quindi è importante la vicenda la seconda vicenda è che se per le materie prime sono strategiche con la tecnologia e il sapere sono diventati strategici dei prodotti che non sono materie prime ma che tecnicamente sono intermedi cioè è vero che c'è soltanto più un 2% di materie prime sui pil ma quanto c'è di prodotti intermedi come i chip cioè il chip è fatto di materie prime banali tra virgolette banali tra virgolette banali però voglio dire il capitale che è necessario per produrlo il sapere che è necessario per produrlo ci sono chip che non tutti i paesi sarebbero in grado per produrre e quindi ci possono essere sanzioni come adesso gli Stati Uniti applicano dalla Cina a particolari tipi di semiconduttori fanno sì quindi la tecnologia da un lato risolve non so la scarsità del cotone ma voglio dire si introduce il tema della della strategicità di prodotti intermedi che sono anche fatti con che sono un alto contenuto di conoscenza in questo devo dire che l'uomo riesce a fare autogol perché l'uomo gli uomini riescono a fare autogol perché il creatore per chi ci crede no ha messo più terre rare in Cina che non in in Europa invece non era scritto da nessuna parte che il 70% dell'industria dei semiconduttori dovesse stare su un'isola che per di più è un territorio conteso della Cina che non è stata un'idea essendo fatto con capitali del West non è stata una cosa voglio dire non è poi stata un'idea intelligente voglio dire siamo senzienti ma qualche volta non siamo particolarmente intelligenti l'ultima cosa che mi viene da dire è che in tutto questo contesto l'Europa e l'Italia non sono messi benissimo non sono messi benissimo in prospettiva sia perché appunto come sappiamo siamo sicuramente ricchi di capitali e ricchi di di tecnologia ma non siamo non siamo particolarmente ricchi di materie prime neppure di quelle di quelle strategiche e quindi la politica serve a maggior ragione a noi perché se ci sono paesi tecnicamente autosufficienti come gli Stati Uniti viceversa il continente come l'Europa autosufficiente autosufficiente assolutamente non è quindi dovremmo farci un'attenzione un'attenzione doppia tra l'altro siamo anche scarsi negli prodotti intermedi strategici per cui per esempio nei termini di semiconduttori quelli più avanzati che non si fanno a Taiwan si fanno negli Stati Uniti ma sai poco oppure assolutamente per nulla in Europa quindi al fatto che in futuro ci potrebbero essere appunto delle crisi su per esempio sul petrolio e il rame che possono considerarsi delle materie prime tra virgolette banali bisogna considerare che potrebbero anche esserci degli shortage su dei prodotti intermedi non così banali come come i microchip che noi di cui noi abbiamo voluto in qualche modo privarci oppure abbiamo scelto deliberatamente di fare altrove quando pensavamo che fosse scoppiata la 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 pace globale e invece è la globalizzazione bellezza appunto è la globalizzazione bellezza e quindi da questo punto di vista sul dico un'ultima cosa su una cosa che non piace agli economisti liberisti a quelli liberali insomma e la parola programmazione cioè quando e dico una cosa dico una cosa a proposito della giusta osservazione sul sul fatto che le banche quindi mercato dei capitali tra virgolette privati le banche non sono privatissime in tutto il mondo comunque chiamiamolo mercato dei capitali privati non è contento di finanziare operazioni a 20 e 30 anni che sono il cui successo è subordinato al prezzo del ram tra 20 e 30 anni ci credo perché un mercato dei future da 30 anni non esiste o comunque e dove esistono delle cose di questo genere comunque non hanno dimensioni italiani da proteggere dei budget dei piani di investimento giganteschi quindi è difficile tra virgolette fare il prezzo del costo del capitale di operazioni che hanno un risultato così aleatorio perché a 20 o 30 anni sfido chiunque a fare delle previsioni non dico credibili ma anche banalmente semplicemente razionali in questi casi serve la programmazione cioè l'intervento dello Stato o degli Stati mettiamo così in questi casi è fondamentale e qui veniamo a quale scala io credo che la scala italiana è insufficiente da tantissimo tempo la scala a cui dobbiamo oggi aspirare è la scala europea quindi la sicurezza strategica di approvvigionamento per esempio dei microchip o delle materie prime strategiche o dell'energia deve essere assicurata si può considerare un bene pubblico europeo la risposta che bisogna dare sì o no se la risposta che la sicurezza strategica è un bene pubblico europeo allora le operazioni quella programmazione deve essere fatta a quella scala cioè alla scala europea quindi non quando io vedo sul giornale che qualche regione sta pensando di riaprire delle miniere è giusto ma se non so in Sardegna piuttosto che in Piemonte anche qua in Piemonte io dico ma naturalmente si faranno dei calcoli di convenienza però quel tipo di programmazione quella cosa lì richiede una programmazione la cui diciamo scala dimensionale oggi per noi e almeno quella europea se la sicurezza strategica sulle materie prime è un bene pubblico europeo deve essere assicurata a livello europeo ahimè con una fiscalità europea e con una programmazione di quel livello una programmazione che non vuol dire ci pensa lo Stato ma vuol dire che voglio dire quei piani di investimento devono essere realizzati con delle garanzie tra virgolette anche pubbliche se no non si faranno mai investimenti a 30 anni anche quando una buona programmazione ti direbbe che servirebbero e con questa diciamo con questo diciamo manifesto non liberista mi licenzio da mi licenzio mi licenzio scusate io vorrei solo raccontarvi una cosa divertente secondo me sulle microchips pensate che abbiamo avuto una crisi molto bene una delle ragioni ma molto importanti è che le microchips sono prodotte con del neon in altri termini si prendono delle grandi superfici di di sabbia lavorata quindi significa significa in realtà del 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 litio scusate non del litio del come si chiama la sabbia silicio scusate grazie riferite e poi si fanno dei disegnini geoglifici con dei laser al neon quello che noi utilizziamo andate a New York siete inondati fate un tuffo nel neon però domanda chi produce il neon boh io non lo sapevo mi sono informato ebbene pensate che il 50% del neon mondiale è prodotto a Mariupol e vi dice qualche cosa Mariupol come azovstal cioè il neon è un prodotto molto raro primo secondo come il krypton sono questi gas rari si chiamano così nobili e le imprese della siderurgia ne utilizzano moltissimo ma non il neon ma usano in realtà l'ossigeno e come sottoprodotto che trovano nell'aria c'è anche il krypton il neon e così via e poi lo svendono a Erlichid a Axo e così via che poi lo vendono a questi signori che abitano in questa famosa isoletta di cui abbiamo parlato prima cosa è successo molto semplicemente l'offerta il 50% dell'offerta mondiale è andata a zero ecco perché ci sono mancate le microchips e del neon una cosa stupidissima però è fatta così bene grazie a tutti allora per questo finale questo viaggio di 5.000 anni nella storia insomma che abbiamo fatto oggi grazie a Giuseppe Russo a Federico Boffa e soprattutto al professor Alessandro Giraudo buonasera grazie a tutti grazie allora io vorrei grazie a tutti